Ed eccoci con la seconda parte della trasmissione, come ho detto poc'anzi, ci sposiamo a Paceco, ho in studio l'assessore Marilena Barbara, eccola qua inquadrata, e poi la protagonista oggi diciamocelo chiaramente, insomma la giovanissima Cecilia Totaro, dieci anni, eletta ormai proprio questione di ore, no? Un baby sindaco di Paceco. Ciao Cecilia. Ciao. Come stai? Bene. Bene. Sono contento. Non poteva che fare la sindaca. Assessore, come sta? Molto bene. Buonasera a tutti. Grazie per l'invito. Grazie a voi per aver accettato. Per me è un onore arrivare, essere qua con Cecilia, perché è un percorso che abbiamo avviato e adesso con le elezioni, insomma, del 9 di novembre ci ha portato ad avere una baby sindaca. chiaramente il percorso appunto è un po' più lungo perché loro questo progetto del baby consiglio comunale della baby sindaca rientra, del baby sindaco rientra in quello che è tutte le attività scolastiche inerenti all'educazione civica, quella che noi chiamavamo educazione civica. quindi progetto legalità e progetto educazione civica che porta poi seguendo quelli che sono come dire il regolamento comunale di cui il comune appunto si è dotato in tempi precedenti rispetto alla nostra amministrazione, ogni due anni ad avere le elezioni del baby sindaco ed è il baby consiglio comunale. Quindi questo qui è il percorso. Beh, l'insediamento sarà domani. Sarà domani. Esattamente. Quindi domani alle 9.30 verranno i consiglieri eletti. Domani martedì per chi ci vede poi nelle varie repliche nel corso. Esattamente. Quindi martedì verranno i consiglieri eletti e la nostra baby sindaco che si porterà tra l'altro anche la sua giunta nominata quindi gli assessori che saranno quattro verranno proclamati alle 9.30 in comune in aula consigliare con la presenza del sindaco, della giunta, della presidente del consiglio comunale Maria Basilico e con il nostro segretario comunale che faranno giurare così come abbiamo fatto noi sei mesi fa, questa volta giureranno loro e si insederanno il consiglio comunale e quindi la baby sindaca. Come ci si arriva a diventare baby sindaca Cecilia? Abbiamo fatto questa lezione in classe ovviamente con un programma che io e tutta la mia classe abbiamo realizzato e certo quella emozione sempre c'era di vedere appunto tantissimi ragazzi e bambini sia della scuola primaria che della scuola secondaria ad ascoltarti. ma eravate in tanti candidati? Sì, della nostra classe eravamo cinque e ovviamente delle quinte eravamo quattro e invece delle scuole medie eravamo tre. Direttore per capire un attimino, allora il regolamento comunale prevede una prima fase, vengono indette le elezioni, una prima fase di circa 15 giorni di campagna elettorale, quindi i ragazzini in loro autonomia costituiscono queste liste elettorali composte da 20 candidati che andranno appunto alle elezioni, quindi faranno questa prima fase di campagna elettorale per poi andare alle elezioni. Ogni lista elettorale ha un proprio candidato sindaco, per quest'anno c'erano tre liste elettorali, una lista elettorale composta dai ragazzini della quarta e della quinta elementare perché la platea è composta dai bambini di quarta e quinta, prima, seconda e terza media. quindi una lista della quarta e della quinta e le altre due liste invece della scuola della secondaria. Hanno fatto questo percorso di campagna elettorale sia nel proprio plesso, perché il nostro istituto è un istituto comprensivo, quindi sia nel proprio plesso, in questo caso la primaria per lei, ma anche ci sono state le trasferte perché sono andati poi alla secondaria e così viceversa. Hanno fatto la campagna elettorale, hanno presentato un loro programma. E i candidati e il sindaco erano solo della primaria o anche della secondaria? No, no, c'erano tre liste con tre candidati sindaci. Della primaria? No, della primaria una lista, secondaria due liste e quindi c'erano un candidato. Quindi hai battuto quelli delle scuole medie? Esattamente. Ah beh, allora sei potentissima proprio, come consenso elettorale, qua dobbiamo prendere tutti esempio da te. Ma che programma avete fatto che ha sbaragliato gli avversari? Allora, nel mio programma abbiamo messo vari temi, come la scuola, le attività sociali, l'ambiente e appunto in questi vari programmi abbiamo messo ognuno le proprie idee. Tipo io ho messo alcune idee che in questo caso hanno convinto più ragazzi. Ma anche quelli, devo ammettere che anche gli altri programmi degli altri ragazzi erano molto belli. Ma la tua arma vincente qual è stata? Allora, secondo me, una che ha convinto anche vedendo dalle facce degli altri bambini e dei ragazzi, nel mio programma ho aggiunto di fare un ballo o una festa di fine anno, nel passaggio della scuola primaria nella scuola secondaria e dalla scuola secondaria alle scuole superiori. E anche, secondo me, una cosa molto carina è nel cortile del plesso Giovanni XXIII aggiungere due porte da calcio e dentro la palestra mettere una rete che potrebbe essere sia da pallavolo che appunto sia da tennis. Ma tu sai che poi tutte queste cose devi battagliare per ottenerle lì con i sindaci quelli grandi, con l'assessore Marina Barbare, ti devi mettere a dire guardate che io sono stata letta a queste cose e le dobbiamo realizzare. Anche se so che purtroppo molte di queste cose che io ho elencato non si potranno realizzare tutte. Però io e i miei consiglieri e i miei assessori speriamo che la maggior parte appunto delle cose si possano realizzare. È chiarissime proprio. È proprio spiazzante direi. Insomma no, anzi no, spiazzante. Nel senso realista, proprio realista. Sa che alcune cose non potranno essere realizzate perché chiaramente il tempo è breve, come abbiamo discusso più volte, tante volte bisogna, come dire, riuscire a dividere il proprio progetto e il proprio programma in obiettivi a breve termine, a medio termine, a lungo termine. Quelli a breve termine sono più facili da raggiungere perché evidentemente gli investimenti sono minori, quelli a lungo termine... Cecilia, non ti farei intortare, guarda. Guarda, vedi, vedi, già sto facendo politica, no? Tu invece dici, no, dobbiamo raggiungerli tutti. Quanti più possibili? È davvero. Quello che si può fare. La cosa interessante è che il loro contributo non riguarda esclusivamente la vita scolastica perché il loro contributo potrà essere dato anche in tanti ambiti che non è necessariamente esclusivamente quello scolastico ma anche della comunità, quindi della comunità in cui vivono perché loro sono quasi tutti di Paceco e bambini, per cui vivono quelle che sono le criticità della comunità, vivono le criticità del paese, dalle strade, dalla raccolta differenziata, ne hanno parlato più volte, dall'ecologia, loro sono molto sensibili a questa cosa qui, per cui sono molto stimolati e stimolano, cioè la cosa importante è che stimolano noi Cosa c'è che funziona meglio a Paceco? Allora, secondo me Paceco appunto è attirato dai vari turisti anche per secondo me il mare, l'ambiente, però ovviamente la nostra Paceco bisogna anche focalizzarci sul tema dell'ambiente perché purtroppo capita che, inavvertitamente, che ne so, ci può scappare qualche pezzo di carta e la nostra città non sia appunto al massimo pulita, quindi anche questo è da tenerci conto che bisogna sia pulire le cose che sembrano che a noi sia una cosa così ma in realtà è molto importante Beh, ma pensi da grande di seguire questa strada politica? Secondo me sì Dipende Da che cosa? Perché, allora, avere questo incarico non è semplice Guarda che io ho avuto un sacco di persone ospite qua in studio grandi e mica parlano tutti bene come te e hanno le idee chiare come te Allora appunto ripeto che questo incarico non è semplice, bisogna avere molta autorità e responsabilità ma ovviamente anche non essere che bisogna fare solamente quello che vuoi tu ma anche ovviamente quello che la politica può fare Certo, bisogna ascoltare gli altri Esattamente Ma anche la cosa bella è che bisogna fare un gioco di squadra con i propri assessori e con i propri consiglieri perché se no se non c'è amicizia non si va da nessuna parte Certo, bisogna condividere i progetti, non c'è dubbio Esatto Ma gli assessori li hai scelti tutti della tua classe? No, li ho scelti soprattutto della secondaria ma anche quelli della primaria, non li ho fatti sfuggire Se venivano loro a offrirsi a te oppure sei tu che hai deciso ma questo secondo me è in gamba, questo altro è in gamba No, allora, io ho scelto le persone che appunto io conosco ma anche persone che ne parlano bene Ok E appunto che le trovi in gamba Quindi la reputazione è importante Esatto, perché se poi una persona appunto sembra brava ma poi non sa fare tipo il gioco di squadra non può diventare assessore Giusto Beh, lì a Paceco con le scuole insomma fate un sacco di cose Sì Se poi i frutti e i risultati sono questi Esatto, devo dire che ho la fortuna di aver avuto la delega per la pubblica istruzione Io le chiamo le deleghe soft che sono quelle... Beh, non so, al pubblico c'è tanto soft No, lega soft nel senso che hanno a che fare con la delicatezza che non sono asfaltare le strade, questo voglio dire Che hanno a che fare con la persona e quindi tutto quello che riguarda appunto la pubblica istruzione, che riguarda le politiche per i minori, per gli adolescenti, per le famiglie, per gli anziani, che mi tengono a contatto appunto con la realtà cittadina e con le persone Devo dire che con la scuola si è avviato subito un rapporto assolutamente proficuo Oggi abbiamo inaugurato un progetto interessante sulla gentilezza Oggi è la giornata mondiale della gentilezza Abbiamo le immagini, regia, sei riuscito e le mandiamo magari mentre parliamo appunto di questo evento Abbiamo inaugurato questo progetto che si realizzerà su tre annualità e che avrà come protagonisti per l'appunto i ragazzi che poi diventeranno, come dire, con le loro azioni e con le loro capacità di comprendere, di capire, di empaticamente quelle che succede attorno a te E diventerà un progetto che sarà rivolto a tutta la comunità Per l'appunto ha uno svolgimento su tre annualità e questo è molto interessante Beh anche lì vedo molta partecipazione Sì, sì, i ragazzini della scuola, quello lì è rivolto ai ragazzini della scuola media, quindi prima, seconda e terza media E la cosa interessante è che noi siamo riusciti, insomma, seppur poco, perché insomma è da meno di sei mesi che siamo insediati e quindi che stiamo lavorando L'obiettivo è quello di lavorare in sinergie, con sinergie, condividendo quelli che sono gli obiettivi e trovando in partner esterni anche all'interno della comunità che ci possano collaborare e possano essere lo strumento per la realizzazione dei progetti Abbiamo iniziato per esempio a luglio con la collaborazione con la WISP, che è la Unione Italiana Sport per Tutti che ci ha proposto un progetto di implementazione di quello che è il centro di aggregazione giovanile, già esistente a faceco con la Caritas, l'abbiamo implementato Quindi sono tutti progetti in itinere che si stanno sviluppando e che mi vedono molto contenta Questa villa comunale di Paceco come la dobbiamo far diventare? Ma intanto tu ci fai intanto lì, alla villa comunale Vabbè sì, ogni tanto quando, che ne so, la scuola finisce un po' prima, noi ci incontriamo lì e appunto ho notato anche andandoci che è un po' sporca, quindi una cosa da fare è anche... Diciamo, l'assessore, anche se non è la competenza sua, però insomma che intervenga E poi una delle cose che ho anche scritto nel mio programma, che mi piacerebbe anche molto è di ripulire appunto la fontana della villa, perché è sporca da anni e sarebbe molto bello appunto se l'acqua fosse un po' più limpida e appunto se tornessimo dei pesci e anche sarebbe bello mettere un parco giochi appunto nella villa, in un'area ricreativa e o anche volendo un posto dove gli anziani, dove tipo possono fare delle partitine a carte all'area aperta Beh, questo magari d'estate Esatto O già ipotizziamo una copertura per proteggere Sì, tipo una tettoia, una cosa del genere Un sacco di cose vuoi fare, guarda Tutti questi soldi dove andiamo a trovare? Direttore, il fatto di cui parlavamo un po' prima del fatto della sua proprio presenza nella realtà di quella che è la città l'esigenza che lei ha scritto nel suo programma della villa di riqualificarla è esattamente in linea con quella che noi abbiamo scritto nel nostro programma elettorale e che stiamo implementando in questi ultimi mesi, in questi primi mesi per proprio la realizzazione di un progetto specifico già trovati soldi che vanno proprio nella direzione di cui parla Cecilia quindi una villa che diventa un luogo per i bambini dove ci saranno dei giochi dove ci saranno delle macchine per fare sport tutta una serie di attività collegate che facciano diventare questo posto un posto fruibile presente sul territorio e capace di accogliere tutti quindi è assolutamente in linea Bene, bene Ma hai parlato finora di Paceco ma non di Nubia e nemmeno di Dattilo Esatto Ce ne dimentichiamo? No, no Avendo infatti dei ragazzi che soprattutto provengono da Nubia e Dattilo appunto sarebbe anche bello occuparsi delle due frazioni anche appunto dare una ripulita generale anche appunto aggiungere qualche parco giochi in più perché lì io ci sono andata in questi giorni e ho visto che il paesino è un po' Quale? Dattilo o Nubia? Tutte e due Allora, sono andata da Nubia io e ho visto che è un po' sporco quindi sarebbe appunto bello dare una bella ripulita anche insieme ai cittadini Beh, hai visto? Hai visto Mi so che vi darà filo da tosse Sì, sono certa ma noi siamo ben felici di avere il pungolo Sindaca, tu adesso lo sai adesso che siamo prendendo confidenza da domani in poi dopo che dico la fascia quando loro non fanno quello che dici tu mi chiami e noi interveniamo con le telecamere così li facciamo stare sempre al posto giusto Le Salina Allora, le Salina appunto è un tratto di turismo perché sempre i turisti vengono a Trapani per appunto visitarle e sarebbe anche bello fare più gite per andarle a visitare per vedere le creazioni tipo del sale come appunto entrare in questo ambito che noi come bambini non è che conosciamo molto bene Ok ma col sindaco, quello grande, aldo grammatico hai confidenza, parlate? Allora O hai più confidenza con l'assessore Marina Barbare? Mi sa, più con lei Allora, ripeto ieri sono andata a Nubia per fare una manifestazione dello sport e appunto ci siamo incontrati ed è stata una delle prime volte in cui abbiamo parlato faccia a faccia Faccia a faccia, lui è altissimo ci organizziamo e noto che è una persona molto gentile che appunto mette a proprio agio le persone e quindi non mi devo preoccupare su questo Bene Bene, bene, bene Sei emozionata per domani mattina? Un po' Il giusto, il giusto Durante queste giornate di campagna elettorale noi abbiamo insieme alle docenti organizzato due incontri con loro soprattutto con le quarte e le quinte che sono più piccoline insomma avevano bisogno di entrare in contatto con quello che è in realtà il sindaco e la giunta eccetera abbiamo fatto due incontri in aula consigliare con tutti i bambini di quinta e tutti i bambini di quarta per far conoscere il sindaco il sindaco che tra l'altro quando vede bambini insomma lui è proprio si trova a suo agio è stato avuto piacere di fare vedere tutto il palazzo comunale oltre ad avere prima una prima un dialogo con tutti noi siamo andati nella stanza della giunta siamo andati nella stanza del sindaco e ha fatto vedere tutto quello che dove viviamo sostanzialmente e dove operiamo questa cosa chiaramente le ha resi molto partecipi all'incontro quindi erano molto contenti di fare questa cosa Perciò diventerà almeno così nei vostri obiettivi, nei vostri interdimenti una città a misura di bambino Sì, questo è un obiettivo forse il primo obiettivo che è il primo progetto che avevamo scritto in campagna elettorale nel programma e questo è uno dei primi obiettivi che il sindaco vuole raggiungere quando dico sindaco dico amministrazione in genere ovviamente ciascuno nella propria area e con la propria specialità però dico questo è uno dei adesso per esempio arriveranno le feste di fine anno Natale, Capodanno, Epifania che cosa state pensando? Ci stiamo organizzando su questo ci sarò io impegnata in questa cosa e l'assessore Danilo Fodale che è l'assessore alla cultura agli eventi stiamo programmando tutta una serie di attività che coinvolgeranno i ragazzi e coinvolgerà tutta la comunità insomma perché Natale è la festa dei bambini perché insomma loro saranno protagonisti Un po' la festa di tutti Che facciamo per Natale, sindaco? Allora, da quello che appunto Ti piace essere chiamata sindaco però, eh? Già ti sei abituata Allora, da quello che ho sentito dalle attività scolastiche che appunto le maestre hanno parlato noi vorremmo fare dei mercatini di Natale appunto come gli anni scorsi e una delle prime cose che dobbiamo fare è appunto fare dei piccoli lavoretti lavoretti esatto da appunto vendere e da mettere nei mercatini in piazza ma anche una cosa che ho sentito dire che mi piacerebbe molto è quella di fare sempre tipo con gli strumenti della secondaria tipo una piccola banda e appunto fare tipo un coro dove noi potremmo cantare ma non solo noi anche i ragazzi di i ragazzi di quarta i ragazzi di prima media i ragazzi di seconda media bene dai sono curioso sicuramente molte cose si ti inviteremo grazie parteciperò molto volentieri e vengo pure con mia figlia che ha un anno meno di te quindi magari riusciamo a coinvolgere in altre cose vi ringrazio intanto per questa bellissima trasmissione una delle più belle che ho fatto in vita mia grazie assessore Maria Barbara ci rivediamo poi parliamo magari un po' più approfonditamente di questioni squisitamente sono a vostra disposizione legate all'amministrazione grazie con Cecilia in bocca al lupo per domani grazie mille rispettare giusto moderazione democrazia ascoltare tutti ma poi alla fine le decisioni vanno prese giusto magari ci rivediamo pure più in là grazie Cecilia Totoro la nuova baby sindaca del comune di Paceco la dottoressa Marina Barbara assessore anche alla pubblica istruzione per il comune di Paceco grazie a tutti voi questa è stata Respubblica Sicilia Chiamo Europa